Mister Capone, innanzitutto come va dal punto di vista fisico con una costola fratturata, però regolarmente in campo a fare allenamento e domani con il Messina sarà in panchina? Andando buongiorno, abbiamo uno staff medico di primissima ordine, quindi cercano di tutelarmi, il dolore è forte però sicuramente nulla di importante, ne valso la pena. Andando sul serioso abbiamo questa partita immediata contro una squadra molto fastidiosa, una squadra difficile da affrontare, una squadra difficile, anche i risultati lo dicono, noi siamo in un buon momento, vogliamo continuare, inutile dire che speriamo di vincere, giocheremo per vincere e faremo di tutto per portare i tre punti a casa, anche per cavalcare questo entusiasmo devastante che in questo momento lo sentiamo attorno a noi, e che penso che abbiamo largamente meritato per come abbiamo programmato e soprattutto anche per tutte quelle situazioni che ci hanno coinvolto, dove noi non c'entravamo assolutissimamente nulla, dove siamo stati vittime e con tutto ciò stiamo facendo risultati importanti in queste condizioni. Domani sappiamo che è una partita difficile, abbiamo avuto poco tempo per prepararla, un avversario di tutto rispetto, un allenatore che dà un'identità ben precisa alle proprie squadre, però penso che abbiamo le qualità, la forza per poter portare a casa l'intera posta in palio. In una partita, ripeto, difficilissima contro un avversario di tutto rispetto, noi cercheremo, come d'altronde lo faranno loro, di portare a casa l'intera posta in palio. Con Messina comunque c'è anche un altro aspetto, il fatto che tu sia un ex, perché prima di arrivare al Taranto hai allenato il Messina tra le tante squadre che hai allenato nella tua trentennale carriera, quindi sarà una partita particolare per te sotto questo aspetto? Ma è una piazza importante, è una città bellissima, io ho avuto il piacere e l'onore, come ovunque sono stato, di allenare anche il Messina, una piazza importante che ha arricchito il mio bagaglio e la mia carriera. È normale che ogni qualvolta sono troppo vecchio per farmi portare dall'emozione, io ho spiegato cos'è l'emozione per me, difficilmente ci convivi con l'emozione. È una partita difficile, a prescindere l'ex o meno, è una partita che noi rispettiamo, rispettiamo in maniera notevole, perché loro, a prescindere l'impianto preciso del proprio allenatore, hanno anche giocatori importantissimi e contro di noi li recuperano tutti. Anche nell'ultima partita hanno fatto una turnazione importante, hanno pareggiato a Crotone esprimendo un ottimo calcio, recuperando il risultato per due volte, avevano fuori manetta, avevano fuori plescia, tanti giocatori non hanno giocato dall'inizio e quindi presumo che qui giocheranno. No, noi siamo tranquilli, tranquilli come lo siamo sempre, convinti, consci di affrontare una squadra importante, ma convinti anche delle nostre forze. Mister, stai dando una risposta a coloro che ti hanno definito un allenatore difensivista, punto e basta. A cominciare proprio dalla gara della nuova Redo Arena, dove hai lasciato tre punte per 90 minuti, con lo stesso atteggiamento tattico, senza mai variare il sistema di gioco. Ecco, vuoi rispondere attraverso l'antenna sud a chi ti ha etichettato come difensivista e basta? No, no, le risposte no, no, no. Ma ognuno può, guardi, la libertà di pensiero è il sentimento più alto che dovrebbe albergare nell'essere umano, quindi ognuno può nella maniera più assoluta. Io vado sempre con dei concetti, sono due. Uno che molte volte ho fatto, diciamo, anche in maniera sarcastica, delle convivenze, se così vuol dire. Io dico che un allenatore deve essere in grado di enfatizzare le caratteristiche dei propri giocatori. A volte ho detto come il cuoco, no? Se uno ha gli ingredienti per fare la lasagna non può assolutamente fare i gnocchi con la salsa, voglio dire, quindi altrimenti è un pranzo non veritiero. Cosa voglio dire? Che un allenatore, se è bravo, o meglio, se è diligente, deve enfatizzare le caratteristiche dei propri calciatori. Se andiamo nell'anno passato, penso che i risultati che io ho ottenuto, adesso non l'ho mai detto, penso che in pochi li avrebbero ottenuti. Io ereditato, se vi ricordate, una squadra, diciamo, in grande difficoltà, a livello mentale, a livello di punti, non dico tanto perché si era all'inizio. E poi la storia dice che gran parte di quei giocatori oggi, purtroppo, perché io li amo tutti, i miei giocatori giocano tutti in categoria inferiore. Quindi cosa voglio dire? Che quella squadra ha fatto, secondo me, un capolavoro calcistico, in quanto è arrivata nei play-off, perché a noi c'è mancato un gol, se non vado errato, non un punto, dove tutti dicevano che era una squadra che sarebbe già retrocessa. Quindi noi abbiamo dato un'identità a quella squadra, quale? Di fare quanto più densità è possibile, nel cercare di ottemperare alla forza notevolmente superiore degli avversari. Dopo qualche mese abbiamo costruito una squadra diversa, dove adesso ci viene detto che è una squadra poco cinica, che spreca tantissimo. Quindi cosa voglio dire? Che nel calcio esiste la malattia del disquilibrio. io la chiamo malattia del disquilibrio, attenzione questa cosa, dove tutti possono parlare, e chi è dentro deve subire, perché è così. Perché io non mi sono mai addendrato in cardiochirurgia, in traumatologia, in giornalismo sportivo, in tutto, io cerco, però gli altri si parlano di tutto. E questo, voglio dire, è il mondo del calcio. Oggi ci vi è detto addirittura che si spreca tanto. Allora dico, ma mi sembra di sognare, perché si dà un eccesso all'altro. Poi concludo. L'allenatore che gioca per sé stesso, il cosiddetto che a voi piace il tiki-taka, il gioco basso, perché poi io ho studiato anche i numeri, i numeri quelli non mentono mai, l'87% possiamo chiedere se gentilmente, perché gli piace scherzare, voglio dire, i numeri dicono l'87% dei golfatti avvengono sul recupero palla, il 13% di costruzione, il 2,5% della costruzione dal basso. Cosa voglio dire? Oggi ci sono le mode. Le mode quale sono? Che se tu fai tre passaggi consecutivi, sei visto bene, ma quello è l'allenatore che lavora per sé stesso. Per il futuro, per dire, cerco di dare un'identità. Chi invece enfatizza le caratteristiche, fa i risultati, viene dedicato come difensivista o catenacciaro. purtroppo il calcio è una componente della vita, cioè tutto quello il contrario di tutti. Invece nel calcio esiste un solo comune denominatore. Sapete come si chiama? Il risultato. Il resto è tutta riaffritta. Noi abbiamo fatto a Giuliano una grande prestazione, giusto? Non so quanti pali abbiamo avuto. Ci si è dimenticato tutti. Io alla fine della partita cosa dissi? Chi vince spiega, chi perde sta zitto. Quindi anche a me è capitato tante volte, però io oramai sono vecchietto, so benissimo come hanno le cose, quindi ci sorrido sopra. anche ecco abbiamo trovato anche un momento di essere un pochettino così sarcastici per non pensare alla partita di domani che è una partita dove è bella, dai. È bella giocarla, è bella combatterla e sarebbe l'apoteosi vincerla. Domani con il Messina, domenica con la capolista, sempre lo Iacovone, Juve Stabia e pensi ad un turnover? Ma questa parola della turnazione è un'altra cosa che a me dà fastidio. Io non faccio turnazione, io ho tanti, io parlo di me, io ho tanti giocatori bravi, per me sono tutti titolari e penso di averlo dimostrato e non vedo l'ora di far risordire anche l'unico giocatore che al momento non è i serdi, Isai. Isai è un giocatore secondo me bravo, è un giocatore perché un allenatore non deve dare il contentino, l'allenatore che dà il contentino è un debole è come se tu a un bimbo gli dai il pezzettino di cioccolata per farlo contento, è un'umiliazione. Isai è un giocatore che sta crescendo, un giocatore che al momento deve fare un percorso perché ha fatto solo settore generale ma sarà sicuramente chiamato in causa e farà benissimo perché è un ragazzo che io stimo tanto, stimo tanto, si allena bene ed è un buon giocatore. Quindi io ho dimostrato cosa, che anche cambiandone tre, quattro, cinque chi è andato in campo ha fatto sempre bene. Quindi che significa? C'è un concetto che può piacere e non più piacere ma è un concetto dove si è seguiti e ci sono dei codici importanti che rendono questa squadra al momento importante. Quindi, cosa è la turnazione? Non esiste. Io, è normale che anche domani cambierò perché nel momento in cui fai tante partite ravvicinate, non per volere del Taranto, perché siamo stati vittima di un'ancheria, la chiamo angheria e mi limito a questo, è che in questo momento non puoi pensare di far giocare sempre gli stessi per tre, quattro, cinque partite consigliere, considerando purtroppo che abbiamo anche tanti giocatori infortunati. Sicuramente stravolgere non serve, ma chi ha bisogno di rifiadare con un altro fresco che sicuramente non fa rimpiangere a chi non è andato in campo lo farò con tanta tranquillità. Sul modulo non ti chiedo niente perché già lo do per scontato, 3-4-3, poi vedremo. Intanto, veloce, una cifra. Quanti spettatori ti aspetti per domani, domani sera allo Iacovone? Mi aspetto lo stadio pieno, ma non me l'aspetto io per rispetto di questi ragazzi. Lo meritano, no? È una squadra che lotta su ogni palla, è una squadra che dà l'animo, è una squadra che quando segna sembra il coinvolgimento di tutto, quindi è vero che mi aspetto tanta gente. L'aspetto perché penso che in questo momento questa squadra meriti e poi c'è questa grande empatia squadra pubblico. Mi aspetto tanta gente. Vedo, ti conosco, gli occhi lucidi quando parli dei tifosi, quando parli della gente, perché poi a Francavilla ti hanno accolto con un coro e ti hanno salutato con un altro coro. Ma io penso che quando ti vogliono bene e ti seguono e ti vedono come una persona su cui loro possono credere in qualcosa di importante che in questo momento è il Taranto oppure un'altra situazione della vita, in te accrescono le responsabilità. e attenzione quando uno è voluto bene è seguito ed è ritenuto credibile ed è garante del popolo vi assicuro che non è il campo a fare la differenza ma è l'uomo e su questo possono esserne sempre tranquilli e io ne sono largamente orgoglioso. bene grazie a tutti. Grazie a tutti.